bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi siamo qua nella fearless fjord la nuova mappa di rules of survival che purtroppo sta dando qualche piccolo problema a molti molti giocatori perché si hanno dei problemi con il download ragazzi purtroppo sono dei bug che sono venuti fuori solamente adesso quindi vi consiglio di cancellare tutti i dati del gioco e riscaricarla per avere di nuovo accesso alla mappa se ancora non lo avete fatto ma oggi ragazzi nel video voglio vedere insieme a voi le nuove armi che ci hanno regalato i nostri sviluppatori di net is e quindi direi di non perdere tempo in que squiglie e di incominciare subito mp5 ragazzi la prima arma di oggi di quelle nuove che hanno inserito una mitragliatrice leggera molto molto compatta qui la vediamo fittata addirittura con il silenziatore ragazzi andiamo a dare un'occhiata alle caratteristiche tecniche di questa meravigliosa mitragliatrice ragazzi guardate come potenza quasi quasi la metà della barra della potenza abbiamo il firing rate veramente molto molto alto una stabilità ottima direi peccato solo per il numero di proiettili che può tenere il caricatore abbastanza limitato ragazzi purtroppo è normale essendo una mitragliatrice leggera solo 30 colpi andiamo a vedere ragazzi come spara da in piedi prima in singolo ragazzi giustamente silenziata andiamo a togliere il silenziatore andiamo a togliere il silenziatore in modo da avercela proprio pura diciamo ecco se volessimo essere precisi vediamola un po' vediamola un po' colpi molto molto leggeri molto leggeri andiamo a vederlo invece a raffica come vedete tende molto tende molto ad alzarsi però ragazzi non si muove con un minimo controllo dell'arma guardate guardate come rimane assolutamente vicino al suo punto iniziale di sparo molto molto interessante la nuova mp5 il qb8 il qb u88 ragazzi il fucile da cecchino più potente sembrerebbe dopo il barret ragazzi con questo nuovo aggiornamento guardate che storia molto corto molto particolare ragazzi lo stiamo vedendo in questo momento non guardate sotto al qb u mi raccomando guardate solamente il fucilozzo ragazzi molto molto bello andiamo a vedere le statistiche subito subito vediamo un po guardate come potenza ragazzi veramente veramente tanta direi tre quarti della barra ci sta tutto il firing rate invece molto molto ridotto ma è normale essendo un fucile da cecchino come stabilità direi che ci siamo abbastanza ma può essere sistemata fittandogli sopra degli oggetti extra che troviamo in giro mentre invece ragazzi molto molto ridotto invece il la capacità di contenere le munizioni purtroppo solamente 10 nel caricatore viene ragazzi fornito con un mirino olografico lo stiamo vedendo in questo momento classico mirino olografico andiamo a sentire come spara contro il muro sembra molto solido non male ragazzi qb u 88 tanta tanta roba an 94 ragazzi per quanto riguarda i fucili a raffica guardate un po super cattivo se non ricordo male tedesco guardate già il caricatore da 30 di base estendibile fino a 40 ragazzi tanta tanta roba anche per questo fucilozzo a raffica che non delude ragazzi sicuramente molto stabile andiamo a vedere le statistiche ragazzi della n 94 ed infatti la potenza sembra molto molto interessante quasi a metà della barra ragazzi mentre il firing rate è davvero alto ragazzi pensateci pensateci bene a n 94 la stabilità direi che è assolutamente eccezionale e anche il numero di cartucce che può mantenere come vediamo dal mag size non è assolutamente da lasciare perdere ragazzi sembra comunque accettabile essendo un fucile a raffica andiamo a vederlo andiamo a vederlo come spara anche questo hara prima il singolo e andiamo a vedere la raffica raga no non spara raffica questo spara cioè nel senso non spara ripetizione spara raffica il burst ragazzi andiamo a provarlo rimane rimane fermo ragazzi rimane fermo lì al suo posto molto interessante molto interessante ragazzi anche questo a n 94 sicuramente un'arma molto solida e stabile per i combattimenti a medio lungo raggio il vro ragazzi il fucile a pompa letale guardate un po che roba sembra uno di quei fucili del far west ragazzi cattivissimo guardate che linea che storia questo fucilozzo doppia canna ragazzi che contiene all'inizio un solo colpo nel caricatore ma con l'estensione giusta può arrivare ad averne addirittura due veramente meraviglioso cattivissimo e andiamo a vederci le statistiche di questo vro ragazzi la potenza quasi al massimo ragazzi cattivissimo uno shot per andare a tirar giù il giocatore avversario guardate anche il firing rate ragazzi incomincia ad essere molto interessante davvero alto per essere un fucile a pompa la stabilità invece è un po carente ma ci sta a una potenza distruttiva molto molto interessante ed era ovvio che il mag size cioè la possibilità di avere colpi nel caricatore era al minimo in quanto appunto ne abbiamo uno solo andiamo a sentirlo come spara cattivo due secondi di ricarica non male ragazzi non male vediamo quanto arriva di qua assolutamente non male ragazzi questo era il vr l'acr ragazzi un'altra mitragliatrice leggera un fucile super preciso super veloce ragazzi con un caricatore abbastanza interessante la possibilità ovviamente di fittarci sopra un sacco di elementi aggiuntivi che è veramente veramente molto 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 cattivo da usare ragazzi guardate piccolo cazzuto maneggevole andiamo a vedere le statistiche ragazzi di questo acr come potenza siamo quasi a metà un po come tutte le mitragliatrici leggere ragazzi il firing rate invece altissimo si può sparare da una buona distanza ragazzi e la stabilità non è assolutamente male ragazzi tanta tanta roba anche per la stabilità come vedete invece il mag size è molto interessante perché si possono portare fino a 40 i colpi da inserire nel nostro caricatore acr uno dei fucili sicuramente migliori di questo aggiornamento andiamo a vederlo in singolo a sentirlo in singolo e poi in automatico cattivo velocissimo al caricamento tende a muoversi un po tende a muoversi un po ragazzi ma è devastante veramente devastante acr da tenere in mente un altro dei fucili più interessanti di questo aggiornamento ragazzi il vector particolarissimo piccolissimo ma altrettanto maneggevole ragazzi guardate che ridotte dimensioni che ha questo vector ma è veramente un'arma letale ragazzi cattivissimo velocissimo soprattutto andiamo a vedere subito le statistiche la potenza un po più bassa rispetto alla soglia che siamo abituati a vedere delle nostre mitragliatrici leggere ma guardate il firing rate ragazzi con il vector si può andare a colpire veramente veramente quasi qualunque bersaglio non ve lo sto neanche a dire quando gli fittate sopra il mirino che cosa può diventare stabilità eccezionale ragazzi e anche molto interessante il mag size come vedete direi che si può portare almeno a 30 il numero di colpi se dovessimo comprare e dovessimo trovare l'estensore di caricatore ma comunque andiamo a vedere anche questo vector come va a fare il suo sporco lavoro di sparare proviamolo prima in singolo molto silenzioso molto pulito molto silenzioso ragazzi proviamolo in auto che velocità che velocità beh ragazzi direi che anche il vector non è assolutamente un fucile deludente veramente veramente molto interessante un'altra arma molto molto interessante ragazzi la P90 famosissima in tutto il mondo questa mitragliatrice anch'essa molto molto compatta molto molto particolare ragazzi con questa impugnatura molto strana si rivela veramente un fucile molto accattivante velocissimo stabilissimo ragazzi andiamo a vederne le caratteristiche assieme la potenza non è proprio il suo forte ma il firing rate guardate quanto è la barra rispetto al massimale così come la stabilità ragazzi immobile quando si spara mentre il mag size ragazzi è veramente a livelli ottimali veramente a livelli ottimali 50 colpi per il nostro caricatore da poter credo addirittura espandere a più di 50 vorrei farvela provare ragazzi ve la faccio sentire ve la faccio sentire attenzione attenzione c'è un po di gente ci proviamo non è molto stabile vedete 50 colpi ragazzi sono davvero davvero tantissimi sono davvero tantissimi ragazzi questa questa era la P90 una delle armi più interessanti dell'aggiornamento ragazzi l'RPG il lancia razzi guardate che roba che potenza che design un colpo alla volta per questo lancia missili che fa veramente danni incredibili ho provato a killare anche qualcuno io con il lancia razzi meraviglioso da vedere andiamo a vedere le statistiche ragazzi la potenza è al massimo il firing rate invece è un po più ridotto perché effettivamente non è che va proprio lontanissimo il il mag size che sarebbe il caricatore ovviamente è al minimo perché è solamente uno il colpo che può andare in canna e e ovviamente il non mi ricordo qual'era la terza voce la terza voce era la stabilità la stabilità ragazzi non è proprio delle migliori ma noi che ce ne frega della stabilità quando abbiamo un lancia razzi andiamo a vederlo così di grande cattiveria ragazzi super effetto per questo lancia razzi meraviglioso il saiga 12 ragazzi il saiga 12 il fucile a pompa semi automatico ragazzi l'unico che ha la possibilità di aver fittato su di esso un mirino ha veramente tanto da spiegare ragazzi guardate che roba piccolo anche questo ma letale potentissimo 8 colpi nel caricatore ragazzi dovrei curarmi per andare a farvi vedere un pochettino le statistiche mentre mi curo andiamo a vederlo la potenza elevatissima ragazzi un po' più basso invece il firing rate così come ancora più bassa la stabilità e per ultimo il mag size ragazzi veramente pochi i colpi c'è un furgone lì davanti andiamo a vedere come spara questo saiga ragazzi andiamo a provarlo assieme cattivo tanta roba ragazzi saiga 12k l'unico fucile a pompa semi automatico starete dicendo ragazzi ehi xuder ma non ne manca mica uno si si ragazzi è vero manca l'M110 però sinceramente è tardissimo adesso e io non ho tempo di andare a cercarlo quindi ve lo mimo ragazzi ve lo mimo l'M110 è un fucile a raffica che ha come potenza sempre alla metà della barra più o meno come tutti gli altri fucili che siamo abituati a vedere 30 colpi nel caricatore no 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 è un fucile di precisione se non ricordo male l'M110 dovrebbe avere 12 colpi nel caricatore comunque un'arma molto molto stabile e si può usare ragazzi dalla media lunga questa distanza diciamo che più o meno fa così questo ragazzi era l'M110 beh ragazzi questo era un video con tutte le nuove armi che possiamo trovare nell'aggiornamento di rules of survival se vi è piaciuto mi raccomando di lasciare un bel like ed iscrivervi al canale noi ci vediamo presto ciao